Significativo rito a Cremona, la solenne consegna in piazza del comune dei gagliardetti offerti dagli industriali agli operai loro collaboratori nel diuturno contributo della battaglia per l'autarchia. Presenziavano la cerimonia e loro eccellenze l'onorevole Parinacci, il conte Volpi di Misurata, presidente della Confederazione Industriali e l'onorevole Cianetti, presidente della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria. Grazie